Tutto invariato, allora quando quando partiamo quando partiamo abbiamo due vigili un vigile qui è riuscito a colgilana che magari ferma se prima che partiamo le macchine e uno mi va uno che dalla col di lana blocca in strada quando c'è la partenza e uno in cima qui quando giriamo dentro io ho messo una piazzetta questo qua è l'attraversamento di assaporito uno che abbiamo messo qui c'è la città dei Morteni e poi allora qua l'attraversamento di assaporito dalle sbarre dove sono le sbarre? esatto con noi ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.